Musica Musica Presso la sala polivalente del Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli Stati Generali della Pesca del Veneto 2022 L'iniziativa, voluta dalla Regione Veneto e organizzata da Veneto Agricoltura si svolgerà dal 5 all'8 luglio in quattro diversi luoghi rappresentativi della filiera ittica veneta ovvero Chioggia, Portotolle, Caorle e Venezia partner del progetto di European House Ambrosetti e Società Agriteco Si parla sempre di sostenibilità ambientale noi aggiungiamo sostenibilità ambientale però anche economica e sociale bisogna dare la possibilità ai nostri pescatori di avere un futuro e perché hanno un ruolo di straordinaria importanza nella gestione del mare, nella gestione dell'ambiente e quindi occorre dare il messaggio corretto noi siamo certi che i pescatori siano i nostri primi alleati affinché il mare sia pescoso, pulito e affinché sulle tavole dei consumatori arrivino prodotti di estrema qualità ed è anche per questo che abbiamo voluto coinvolgere tutti i portatori di interesse del mondo della pesca per delineare quelle che saranno le strategie della Regione Veneto in questo settore per il futuro Quattro appuntamenti in quattro località importanti per la Regione Veneto è stato un grande evento come dicevo prima per poi concertare quello che sarà il futuro non solo del Veneto Certamente gli ultimi stati generali si erano ottenuti nel 2014 questa è una grande opportunità per noi abbiamo voluto coinvolgere le nostre principali realtà marinare pensiamo a Portotolle nel delta del Po con tutta la molluschicoltura oltre che la pesca del porto di Pila pensiamo a Chioggia che è la nostra prima marineria a Caorle per le lavune nord e naturalmente a Venezia dove faremo un lavoro anche di confronto con le altre regioni del distretto dell'alto Adriatico Dottoressa Bioschi, The European Ambrosetti ha realizzato questo libro bianco un documento molto importante anche in ottica futura per capire meglio le prospettive del comparto della pesca Sì assolutamente come The European House Ambrosetti siamo molto orgogliosi di esserci occupati insieme a Regione Veneto a Veneto Agricoltura e ad Agriteco della prima edizione del libro bianco della pesca e dell'acquacultura nella Regione Veneto noi stessi siamo rimasti colpiti da quanto questo comparto sia strategico per il rilancio sostenibile del territorio e della Regione solo per anticiparvi alcuni numeri insieme al nostro team abbiamo calcolato l'impatto di questa filiera sull'agenda 2030 delle Nazioni Unite sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che l'ONU ha introdotto nel 2015 per guidare appunto la transizione verso modelli più sostenibili e circolari abbiamo scoperto che questa filiera impatta in modo diretto o indiretto su 11 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 54 dei relativi 169 target quindi un impatto molto esteso che va oltre quello del solo settore e che è testimoniato anche dai dati sulla sostenibilità economica del comparto partendo proprio dall'analisi delle tabelle intersettoriali di Istat abbiamo calcolato che un euro di valore aggiunto generato nel settore ne genera ulteriori 1,18 nell'economia quindi stiamo parlando di una filiera i cui impatti vanno oltre quelli appunto del territorio e della Regione Dottore Seliviero, Veneto Agricoltura ovviamente in prima linea per quanto riguarda questi stati generali della Pesco 2020 Sì abbiamo ricevuto in carico dalla Regione Veneto anche in questa edizione la prima appunto è stata nel 2014 di seguire diciamo il coordinamento tecnico scientifico degli stati generali della Pesca nonché l'organizzazione di queste quattro giornate che si terranno in Veneto a partire da martedì 5 luglio Tre tappe principali sono appunto a Chioggia, Pila di Portotolle e a Caorle che sono le nostre emblematiche marinerie e quindi i centri di pesca per eccellenza e si è voluto scegliere proprio queste sedi proprio per questo motivo per dar più voce ai pescatori in casa loro L'ultima giornata, la giornata dedicata invece alla pesca professionale in mare è dedicata al distretto, a un più ampio respiro avremo presente molte autorità sia nazionali che dell'Unione Europea e questo sarà un momento per i pescatori per fare le loro proposte gestionali Grazie a tutti